ben ritrovati a voi tutti cari amici fan dal sottoscritto nicola delucina deluxe television allora ritorno un po sull'argomento dell'holo star game di NBA maschile 2020 un holo star game davvero speciale già dal venerdì fino alla notte scorsa dedicato a Kobe Bryant innanzitutto mi è piaciuto tutto mi sono divertito poi la partita principale dell'holo star game ha avuto regole anche particolari speciali ad ogni quarto veniva zerato il punteggio mi sa solo all'ultimo credo l'ultimo e quarto non era cronometro ma c'era il punteggio massimo da raggiungere 157 raggiunto dal team Lebron James che ha vinto sul team Gianni 157 155 quindi sono molto contento di questo star game ma tra pochi giorni riprende l'NBA con tante tante partite quindi che dire viva il basket viva l'NBA ciao a tutti grazie 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 a tutti.